Non li vedo, non li vedo, non li vedo, non capisco quali sono, poi li bianchi, perché se non bianchi non sono, no, se possono essere anche bianchi. Ma che ci sono bianchi, che ci sono bianchi, tutti, 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 tutti. Qui ce ne sono lì sotto, lì ce ne sono i fattori? Eh, qui sarà meglio andare di là. No, sono peggi. No, sono ocche. Oh, sono.